Prego signora, sono un esponente del partito femmina 100%, lavoro e ho dei requisiti che possono entrare anche a difesa del massimo. Anch'io ci appoggio a questo momento, le faccio le battute, guardi, le vado a fare a casa sua, che forse è meglio, e incomincio a rispettarle le donne, lei che uomo. Non ho capito perché devono stare a casa a fare la calza, secondo il signore. No, io appoggio l'idea del movimento, che a quello che ho capito fino ad oggi io, vuole riequilibrare il rapporto tra uomo e donna, ma a prescindere se lavora o non lavora.